La nostra qualità, la nostra cuneese è la nostra ricetta principale perché viene colato su un dischetto di cioccolato. Questo piano dà una dimensione al dischetto da noi desiderati in base alla regolazione. Può prendere il freddo e inizia a stabilizzarsi. Una volta che il dischetto è stabilizzato si dirige verso questa macchina che ha la stessa funzione di una sacca poche ma meccanica. Si può vedere che la forma non è uniforme, non sono tutti uguali ma questo è proprio voluto da noi come azienda. Non è un errore di produzione ma è proprio questo che ci distingue dagli altri. Questa crema, ci tengo a sottolinearlo, sono tutte prodotte qua in azienda da noi. Non compriamo nulla di fatto, quindi sono tutte preparate dai ragazzi. Viene passata sotto questa macchina, questa macchina toglie la punta. Toglie questa punta che darebbe fastidio alla ricopertura. Dopodiché viene qua sotto questa doppia cascata di cioccolato e viene ricoperto. Quando esce è pronto, va anche lui per essere incartato. Va la macchina incartatrice, questa macchina riusciamo a incartare a 170-180 kg di cuneesi ora. Gira intorno ai 120-140 cioccolatini al minuto.